Grazie al Signore! Grande lode al Signore! Ok, sentite. Stanotte sono di turno, ma... Domani mattina, quando stacco, andiamo tutti a messa, ok? Ok, tesoro. Ah, non mi va per niente di andare alla messa del mattino. Ui, un dolcetto. Stavo solo cercando di... Oh, so bene cosa cercavi di fare, ma... Non basterai il mio spirito natalizio. Né ora, né mai. Sono il gioioso inserviente. Ciao, piccina, cosa vuoi per nata...